Siamo ospiti dello Yacht Club in Riva di Traiano dove abbiamo incontrato l'avvocato Armando Fergole, il consulente legale di Solo Vela Net, la persona con cui affrontiamo tutti i problemi inerenti alle leggi che governano la navigazione ed è a lui che vogliamo fare una serie di domande per capire meglio come funzionano le dotazioni di sicurezza. Armando, ci puoi fare un quadro delle regole che governano le dotazioni di sicurezza? Le regole che determinano le dotazioni di sicurezza sono relazionate ad un criterio che è dato dalla distanza dell'imbarcazione dalla costa. Il nostro legislatore ha previsto otto fasce che partono dalla prima che è relativa alle acque interne fino ad arrivare all'ottava che è quella oltre le 50 miglia. A secondo della distanza dell'imbarcazione dalla costa avremo un obbligo di tenuta di dotazioni che possono essere nulle e assenti fino a 300 metri dalla costa, pensa che non è nemmeno previsto l'obbligo di tenuta di remi, ancore o sassola fino ad arrivare all'obbligo di tenuta dell'EPIRB nell'ultima fascia, quella oltre i 50 miglia. Per questo ho capito bene, se io ho una barca di 10 metri e navigo a 250 metri da costa posso anche non avere a bordo nessuna dotazione di sicurezza, posso non avere autoconfiabile, cinture, niente. Assolutamente esatto, è rimesso tutto al buon senso dell'armatore. Zattra autoconfiabile, tu sai che va revisionata, tutti noi lo sappiamo, però capita spesso che ce lo ricordiamo all'ultimo momento e scegliamo di prendere il mare con la zattera che non è stata revisionata. Cosa succede in questo caso? L'ultima regolamentazione prevede l'obbligo di revisione ogni due anni per la zattera autoconfiabile e fin quando si rimane all'interno delle semiglie nulla succede in quanto non vi è l'obbligo di tenuta. Oltre le semiglie ovviamente se accade un sinistro si incorre in una violazione con una sanzione amministrativa che è la medesima di quella per assenza delle dotazioni di sicurezza a bordo dell'unità. Questo solo se accade un sinistro o anche nel caso in cui la guardia costiera ci ferma e vede che appunto la zattera non è stata revisionata? Se ci ferma oltre le semiglie la sanzione viene applicata ugualmente ed è una sanzione che va dai 207 euro ai 1033 euro. E questo per quanto riguarda la parte amministrativa. Ma il fatto di avere una zattera o un'altra dotazione di sicurezza che non è stata revisionata o non è stata rinnovata, cosa altro può comportare? Comporta in caso di incidente di sinistro, comporta una responsabilità civile con un conseguente risarcimento del danno nei confronti dei malcapitati ma anche addirittura una responsabilità penale fino ad arrivare addirittura in casi limiti alla violazione dell'articolo 589 del codice penale, cioè di omicidio colposo. Questo sempre nel caso in cui succeda qualche cosa in seguito al fatto che noi avevamo questa dotazione di sicurezza non omologata, ovvero se noi naufraghiamo la zattera che non è stata revisionata, non si apre, una delle persone che erano a bordo muoiono perché non riescono a salire sulla zattera, solo in quel caso noi siamo responsabili. Assolutamente, è responsabile lo skipper ma al pari dell'armatore che anche per lui vi è, anzi soprattutto per lui vi è questo obbligo, questo onere di verificare e revisionare le dotazioni di sicurezza. Lo skipper ne diventa responsabile nel momento in cui assume il comando che deve verificare che tutte le dotazioni di bordo siano idonee all'utilizzo. Perciò sia skipper che armatore nel caso in cui la zattra non sia stata revisionata e accade qualche cosa proprio in relazione all'utilizzo della zattra. E invece per le altre dotazioni è sempre responsabile l'armatore o soltanto lo skipper? No, entrambi, per quanto riguarda eventuali sanzioni di carattere amministrativo. E' ovvio che se ci sono delle dotazioni di bordo non sufficienti alle persone, all'equipaggio e l'armatore non è presente non ne risponderà. Faccio un esempio, se ci sono sei persone a bordo dell'imbarcazione e con quattro cinture di salvataggio e l'armatore non è presente ovviamente lui non risponderà insieme allo skipper che invece sarà responsabile anche se la sanzione amministrativa poi verrà combinata in solito con l'armatore. Perciò ci puoi dire in effetti quante cinture di sicurezza noi dobbiamo portare? L'obbligo delle cinture di sicurezza è in relazione alle persone a bordo nel momento in cui vi è il controllo. Per cui se io navigo con sei persone a bordo devo avere sei cinture di sicurezza anche se la barca è omologata per il trasporto di otto persone ad esempio? Esattamente. Stessa cosa per la zattera? Stessa cosa per la zattera, la zattera deve rispettare il numero delle persone a bordo. Perciò se io ho anche su una barca di 18 metri ma sono con quattro persone posso avere una zattera piccola da quattro persone? Esattamente. Barca all'estero, io con la mia barca bandiera italiana quest'anno vado in Grecia ho con me le dotazioni di sicurezza italiane, sono in regola? Sì, la legislazione che viene applicata è quella della bandiera, quindi per tutti i fatti che accadono all'interno dell'imbarcazione stessa si applica la legislazione della bandiera d'appartenenza della barca. E questo vale anche per la patente nautica? In regime di comunità europea sì. Torniamo un attimo alle dotazioni di sicurezza, abbiamo parlato di autoconfiabili, abbiamo parlato di cinture di sicurezza, ma c'è un'altra dotazione che è molto pericolosa a bordo che sono i fuochi, i fuochi scaduti in particolare. A me scadono i fuochi, cosa devo fare con questi fuochi e cosa rischio se non ottempero alle regole che il legislatore ha previsto per lo smaltimento dei fuochi? L'ultima regolamentazione prevede che nel momento in cui si acquistino nuovi razzi di segnalazione i vecchi devono essere dati in consegna al venditore che è tenuto e obbligato a ritirarli. Per cui il negoziante deve avere la possibilità, cioè no, deve avere, è obbligato a prendere i miei vecchi razzi indietro e sarà la sua responsabilità quella di andargli a smaltire. Esattamente, è prevista dalla normativa un modo di smaltimento da parte di ogni negoziante dei razzi ritirati e scaduti. Come abbiamo visto gli aspetti che relativi alle dotazioni di sicurezza sono tanti e sono vari e non riguardano soltanto le multe o quello che ci può contestare la Guardia Costiera nel momento in cui ci ferma, ma ci sono anche delle precise responsabilità di carattere penale. Quindi dovremmo fare molta attenzione, quando noi lasciamo la banchina, a che la barca sia dotata di tutto quello che prevede la legge, ma soprattutto che oltre a esserne dotata, queste dotazioni siano regolarmente revisionate. Speriamo di avervi dato un'idea, un quadro generale, su tutte le norme che regolano questo capitolo particolarmente importante, soprattutto per un armatore che tiene la barca. E vi diamo appuntamento al prossimo incontro con il nostro consulente. Grazie a tutti.